Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo video di news sul prossimo capitolo di Call of Duty, iniziate subito a supportare il video con un bel mi piace ed iscrivendovi al mio canale, e quindi partiamo! L'ultimo rumor in ordine cronologico su Call of Duty 2016 riportava di un presunto bonus pre-order per il titolo. Si parla infatti di Call of Duty 4 Modern Warfare e Call of Duty Modern Warfare 2 come bonus pre-order del nuovo Call of Duty in sviluppo da parte dell'Infinity World in arrivo a novembre 2016. Per approfondimenti su questo rumor, su questa notizia, trovate appunto sia un video dedicato sul mio canale YouTube che una notizia sul mio sito internet che trovate con il link in descrizione. Questa indiscrezione ovviamente ci lascia molto perplessi. Com'è possibile che l'Infinity World sta lavorando a Call of Duty Ghost 2 o a un nuovo titolo della serie se poi come pre-order includerà Call of Duty 4 e Modern Warfare 2? Non avrebbe quindi senso regalare dei giochi della saga di Modern Warfare con la presentazione o lo sviluppo di tutt'altra serie. Questa considerazione che ovviamente volevo fare con voi porterebbe a riflettere e alla possibilità di vedere ancora un probabile Modern Warfare 4, nonostante nelle ultime settimane si è parlato quasi ed esclusivamente come se fosse ormai ufficiale Call of Duty Ghost 2. Infatti negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di Call of Duty Ghost 2, anche addirittura dei primi dettagli di gioco. Ovviamente trovate come sempre tutto quanto anche su Call of Duty Ghost 2 sul mio sito internet con il link in descrizione e con i video di approfondimento sul mio canale YouTube. Quindi quest'ultimo rumor che vuole Call of Duty 4 e Modern Warfare 2 come pre-order di Call of Duty 2016 porterebbe proprio a pensare e quindi a lasciare una piccola finestra aperta ad un possibile Modern Warfare 4. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ovviamente rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti nei prossimi giorni. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale!